Domani alle 15.30 presso lo stadio comunale Luigi Pastena di Battipaglia si terrà la gara di Coppa Italia di Lettanti tra Battipagliese e Real Palomonte. L'ingresso sarà gratuito. Dopo lo 0-0 contro la Polisportiva Santa Maria, le Zebretti affronteranno la terza squadra del girone 26 di Coppa. Il Real Palomonte è reduce dalla sconfitta casalinga della scorsa settimana per 5 reti a 2 contro la Polisportiva. Sarà compito dei ragazzi di Tudisco dare il colpo di grazia alla squadra di Dimieri raggiungendo il Santa Maria quota 4 punti in classifica.